Pfizer, il vaccino occidentale che per primo ha ricevuto l'approvazione, ha aumentato le sue previsioni per la produzione di dosi per il 2021. Il colosso farmaceutico si impegna a fornire 2 miliardi di dosi di vaccino nel 2021, producendo e consegnando a un ritmo vertiginoso, mentre i paesi si affrettano a firmare accordi di fornitura nel tentativo di controllare una pandemia che ha ucciso più di 2 milioni di persone nel mondo. Pfizer ha fornito 65 milioni di dosi in tutto il mondo e 29 negli Stati Uniti al 31 gennaio. È annunciato che prevede di consegnare 200 milioni di dosi al governo di Washington entro la fine di maggio. Tuttavia la sua fornitura ha subito ritardi in alcune parti d'Europa a causa dei cambiamenti nei processi per aumentare la produzione. Pfizer prevede circa 12,5 miliardi di euro di entrate quest'anno grazie al vaccino anti-covid sviluppato con BioNTech ed è la prima volta che la casa farmaceutica statunitense rivela le sue aspettative di vendita di vaccini e la cifra potrebbe aumentare via via insieme al numero di contratti firmati con i diversi governi. BioNTech ha assicurato che le due compagnie sono tornate sulla buona strada per rispettare gli impegni presi.